Una buona serata a tutti da Marco. In queste ore precipitazioni molto intense si stanno manifestando in tutto il nord Italia ed anche sulla Toscana, ma domani la formazione di un minimo depressionario tra Liguria e Corsica coinvolgerà nel maltempo anche le regioni centrali del settore tirrenico, mentre rimarranno maggiormente protette quelle del versante adriatico. In Abruzzo sarà un sabato con maltempo che si concentrerà principalmente sul settore occidentale della regione, mentre fenomeni solo occasionali si potranno verificare sulle zone interne del Terramano del Pescarese e del Chietino. La ventilazione sta intensificando dai quadranti meridionali e continuerà anche nella giornata di domani. Il mare sarà mosso o molto mosso. A causa del richiamo mite da sud le temperature stanno risalendo e infatti le minime di questa notte saranno in netta ascesa con valori compresi tra 6 e 13 gradi, aumenti significativi anche per le massime di domani in tutta la regione con valori compresi tra 12 e 16 gradi. E tutto per la meteo, buon proseguimento di serata.